il sushi beach è nato dieci anni fa da un'intuizione di successo unire la tradizione della cucina giapponese alle materie prime eccellenti della liguria la serietà e la precisione con cui scegliamo e lavoriamo il pesce migliore e la caratteristica che ci rende unici ci ispiriamo alla tradizione e poi ci aggiungiamo il nostro tocco creativo proviamo ingredienti nuovi sperimentiamo nuovi abbinamenti realizziamo nuovi piatti continuamente essere il metodo del sushi beach per me significa esattamente questo raccontare ai nostri clienti una storia fatta di passione autentica per il nostro lavoro di curiosità e di voglia di imparare ogni giorno è così che guidiamo i nostri ospiti attraverso un'esperienza straordinaria un piccolo viaggio Savona Tokyo da fare insieme